Benvenuti a questo spazio con l'informazione edizione del nostro telegiornale che apriamo con la visita a Palazzo Chigi di una delegazione di alcuni sopravvissuti dei familiari del dramma del 26 ultimo scorso. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, così come peraltro aveva sottolineato nella riunione del Consiglio dei Ministri che si era tenuta a Cutro, ha ricevuto questa delegazione. Ricordiamo nella tragedia sono più di 80 le vittime, molti bimbi e molti ancora sono i dispersi e non a caso le ricerche ovviamente vanno avanti. Oltre al Presidente del Consiglio anche il Vice Premier, Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano che hanno partecipato a questo incontro in forma strettamente riservata. Intanto si apprende che il 27 marzo prossimo Sua Santità il Papa incontra i Vescovi e i Seminaristi Calabresi. La Conferenza Episcopale Calabra, presieduta da Monsignor Fortunato Morrone, si è riunita in sessione straordinaria presso il Pontificio Seminario Regionale San Pio X di Catanzaro. In apertura dei lavori i Vescovi della Calabria hanno rivolto un pensiero augurale a Papa Francesco in occasione del decimo anniversario della sua elezione al Soglio Pontificio. Particolare attenzione è stata dedicata alla grave tragedia di steccato di Cutro. Nel rinnovare dolore e sconcerto per quanto accaduto, i Vescovi hanno auspicato che l'Unione Europea e il Governo italiano trovino decisamente una sinergia comune per aprire canali di accoglienza, permettendo così a chi chiede rifugio di giungere in Europa in modo sicuro. Parimenti hanno apprezzato la forte sensibilità umanitaria dimostrata dalla popolazione locale, con evidente riflesso anche della profonda fede cristiana, espressa in forme eloquenti e concrete di solidarietà e di denuncia per quanto accaduto. Viva attesa è stata manifestata per l'udienza concessa dal Santo Padre il prossimo 27 marzo all'Episcopato Calabro e ai seminaristi e formatori della Calabria. Per questo è stata rinnovata la gratitudine a Papa Francesco per l'opportunità di incontrarlo. Si tratta di un momento storico senza precedenti per la Chiesa calabrese, che certamente apporterà frutti di rinnovamento e di grazia. La cronaca a tre persone, Angelo Lentini, 43 anni, a quanto pare presunto esecutore materiale, poi Michele Tufano, 39 anni, originario di Ottaviano, Jonathan Russo, 39 anni invece di Praia Mare, sono stati arrestati tutti e tre dai carabinieri di Scalea. I tre sono accusati in concorso dell'omicidio di Francesco Prisco, avvenuto a Tortora la notte del 17 febbraio scorso, morto dopo una decina di giorni nell'ospedale di Cosenza. Prisco era stato raggiunto da alcuni colpi sparati da un calibro 12, mentre rientrava a casa. A quanto pare a fare fuoco sarebbe stato, dopo un litigio, Angelo Lentini, che era a bordo di un'auto. Quest'auto era condotta da Tufano e aveva raggiunto, insieme appunto anche a Russo, l'abitazione di Prisco. Il 42enne era stato colpito in diverse parti del corpo, successivamente soccorso e trasportato all'ospedale di Cosenza, dove poi a distanza di alcuni giorni è deceduto. Tutti particolari ovviamente li raccoglieremo nel corso delle prossime edizioni del nostro giornale. Intanto la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della distrettuale antimafia, ha disposto per un anno l'amministrazione giudiziaria della Eurospin Sicilia Società per Azioni, con sede a Catania e una delle cinque società operative con le quali opera questo noto marchio della distribuzione alimentare. La Ndrangheta sarebbe stata agevolata ad infiltrarsi nell'attività di espansione commerciale di Eurospin. Secondo i PM sono emersi elementi sufficienti per questo provvedimento emesso poi dal Tribunale, perché sarebbe stato uno stabile rapporto di oggettiva agevolazione tra l'esercizio delle attività economiche, ovviamente della Eurospin Sicilia, ed esponenti dell'Andrangheta o comunque soggetti collusi con questa. Due persone rispettivamente di 30 e 35 anni, entrambe di nazionalità albanese, domiciliate a Policoro, sono state arrestate dalla Guardia di Finanza Roseto Capospulico, in questo caso con l'accusa di traffico di stupefacenti. i finanziari facevano dei controlli sulla 106, hanno fermato un'auto e hanno proceduto un'ispezione e quindi li hanno trovato un chilo e 350 grammi di eroina. Poi hanno approfondito, uno è stato stabilito a dei precedenti di polizia specifici, c'è stata anche una perquisizione domiciliare, li hanno trovato anche un chilo e mezzo di eroina, 15 grammi di acisce e due chili e mezzo circa di sostanza da taglio per l'eruina. Tutta la droga, valore commerciale in dettaglio circa 200 mila euro, insieme all'auto utilizzata, sono state sequestrate. Parliamo anche di autonomia differenziata, ieri c'è stato il Consiglio Comunale a Cosenza, lo abbiamo seguito. Il disegno di legge su quella che ormai da tutti è indicata come l'autonomia differenziata, uno dei capisaldi del governo Meloni, continua a non piacere soprattutto le amministrazioni locali del meridione gestite dal centro-sinistra. È il caso del Comune di Cosenza che tramite il sindaco Franz Caruso ha avvertito la necessità di organizzare un Consiglio Comunale aperto, però anche ai sindici della provincia, affinché il disegno di legge proposto dall'ottore Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomia, il leghista Roberto Calderoni, venga ritirato. Ho convocato il Consiglio Comunale perché c'è stata una richiesta da parte di tutti i consiglieri comunali di maggioranza che, sollecitati anche dal dibattito che si è aperto anche nella nostra città rispetto a una questione fondamentale per il futuro del Paese, hanno chiesto di convocare un Consiglio Comunale. Siccome riguarda tutta la nostra regione, riguarda tutto il Mezzogiorno, ho ritenuto che fosse giusto coinvolgere tutto il territorio, quindi ho invitato tutti i sindaci della provincia di Cosenza, le associazioni sindacali e tutte le organizzazioni che si sono occupate e si occupano del problema dell'autonomia differenziata. Concretamente chiederemo al Governo di ritirare questo disegno di legge e discutere tutti quanti insieme per trovare la soluzione migliore per dare attuazione all'articolo 116 della Costituzione. E anche la Federazione del Partito Democratico di Crotone ha discusso, ragionato intorno all'autonomia differenziata. In questo momento sostanzialmente il primo e il principale no è dovuto alla creazione di un'autonomia differenziata senza partire dai LEP e quindi dai livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali. Autonomia differenziata, no grazie, dice il Partito Democratico, non farà altro che marginalizzare ancora di più il Mezzogiorno d'Italia. Concetti ribaditi a Crotone nel corso di una conferenza stampa dalla segretaria provinciale Leo Barberio, affiancato dai dirigenti Carolina Girasole e Gina Squillace. Abbiamo avviato subito dopo l'elezione della nuova segretaria nazionale, una prima battaglia politica che la segretaria ha voluto mettere al centro del dibattito del Partito Democratico e quindi partiamo da qui, dall'autonomia differenziata che in questo momento è il male dei mali per questo territorio. Quindi faremo una campagna di sensibilizzazione all'interno sia delle istituzioni che dei cittadini. Alcuni enti si sono già espressi in tal senso, penso al Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. Sì, anche il Consiglio Comunale di Crotone si è già espresso, ma essendo un partito radicato nel territorio penso sia opportuno che, come ha già riportato Nicola Irto, venga avviata una campagna di sensibilizzazione nelle istituzioni in tutte e 404 comuni della Regione Calabria. E il Partito Democratico lancia una raccolta firme. Con una raccolta firme che parte domenica con i gazebo in piazza e nel prossimo mese porteremo in tutti i Consigli Comunali della provincia di Crotone una proposta di delibera contro il DL Calderone. Ancora due note di cronaca, un arresto per detenzione legale di armi e un sequestro di droga, bilancio di un servizio straordinario di controllo dei carabinieri a Cosenza. in particolare dopo una perquisizione i militari hanno arrestato in flagranze e posto a domiciliare un diciottene trovato in possesso di un'arma comune da sparo clandestina. Nel corso di attività di controllo sono state trovate e sequestrate anche un chilo di hashish, dieci panetti, li vedete fra l'altro in questa delle foto, e due revolver, anche queste clandestine. Tutte le armi saranno sottoposte a certamenti tecnici per verificare un loro eventuale utilizzo in recenti fatti delittuosi. Diversi invece i controlli predisposti dalla Questura di Crotone con l'istituzione di posti di blocco nei punti nevralgici della città che ha effettuato una serie di perquisizioni, alcune abitazioni di soggetti noti per i loro trascorsi giudiziari in materia di armi e stupefacenti. Nei posti di blocco sono stati controllati complessivamente 123 veicoli identificati a 230 persone, rilevate 4 infrazioni al codice della strada e rinvenute anche 3 dosi di cocaina in possesso di altrettanti assuntori. Poi la mobile nel quartiere Margherita ha rinvenuto una 7,65 con la matricola punzonata e ancora nel quartiere Acquabona hanno rinvenuto un'altra pistola semi-automatica, un bilancino elettronico e un involucro contenente, in questo caso un grammo. di eroina. La pagina regionale è quella economica con Agenda Calabria e il progetto di prospettiva e di strategia messo a punto da Unindustria Calabria, il servizio. Presentata in Cittadella regionale, Agenda Calabria si tratta del piano d'azione promosso da Confindustria che vuole così indicare la bussola strategica per gli investimenti produttivi. Abbiamo deciso di dare il nostro contributo in questi termini, lo abbiamo fatto insieme a quello che è un vanto italiano, il centro studio di Confindustria che è in tema di centro di ricerca economica e progettura economica è certamente un'eccellenza italiana ma anche europea e quindi proponiamo un piano di aiuto nei confronti delle imprese che ovviamente fa perdo sulla programmazione unitaria. Presenti all'evento il presidente della regione Roberto Chiuto, l'assessore allo sviluppo economico Rosario Varila, sottosegretario all'interno Vandaferro e in videoconferenza Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei. Ha concluso i lavori Carlo Bonomi, numero uno degli industriali italiani. Io credo che sia un progetto importante quello che viene presentato oggi, 70 pagine, un dono da parte dell'industria, dell'industria italiana e in particolare quella calabrese a una regione che noi sappiamo può dare tanto e da cui ci aspettiamo tanto. Lavorare insieme, la prima cosa da fare è lavorare insieme pubblico privato e oggi questo è un esempio di come pubblico e privato possono veramente insieme fare qualcosa per il proprio paese. Sulla riforma del fisco sulla quale sta lavorando il governo, il presidente degli industriali dice Siamo molto ansiosi di vedere questa riforma, non abbiamo ancora un testo quindi non possiamo dare nessun giudizio. Noi ci aspettiamo una riforma organica, lo dichiariamo da tempo, una riforma del fisco ha senso se è organica e se parliamo di fisco di impresa noi pensiamo che si debba cambiare il paradigma, cioè non più un fisco volto solo a essere visto come gettito fiscale per lo Stato, ma un fisco amico, così è stato dichiarato, delle imprese, di chi vuole fare che premi chi investe, che premi chi capitalizza le proprie imprese, se invece si pensa di utilizzare il fisco di impresa come leva invece per le assunzioni noi crediamo che sia un'altra la strada, che sono le decontribuzioni. Parliamo di inflazione perché a febbraio Genova è la città con la più alta inflazione, l'11% su base annua, lo dice il Codacons che ha rielaborato dati messi a disposizione dall'Istat appunto per capire la crescita dei prezzi, al contrario invece potenza all'inflazione più bassa, però sempre è abbastanza elevata, parliamo del 6,5%, poi c'è Reggio Calabria e infine anche Catanzaro, l'inflazione che cosa comporta? Comporta per esempio a Reggio Calabria 1.475 euro di costi in più in un anno, Catanzaro 1.494 euro, insomma quindi non sono sicuramente pochi in una famiglia ovviamente magari con un solo stipendio, ammesso che ce l'abbia. A proposito di stretto andiamo nella Metro City, lì si investe anche nello sport, ci sono 4 milioni, vediamo in quali direzioni. Si arricchisce il patrimonio dell'impiantistica sportiva della città metropolitana di Reggio Calabria, presentati a Palazzo Alvaro, alla presenza del sindaco facente funzioni Carmelo Versace, del consigliere delegato Giovanni Latella, del dirigente Pino Mezzatesta, io ho gli otto progetti finanziati dalla Metro City in collaborazione con l'Istituto per il credito sportivo su altrettanti impianti del territorio per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro. I progetti riguardano la realizzazione di un'area esterna polivalente presso gli istituti professionali, nostro repaci di Villa San Giovanni, familiari di merito portosalvo, Re Chichi, sede di staccata nel comune di Polistena, lavori di riqualificazione della palestra annessa al centro sportivo Pianeta Viola di Reggio Calabria e ancora, sempre a Reggio, lavori di riqualificazione del centro sportivo Mirella Carbone. Inoltre saranno realizzati il completamento e la messa a norma dell'impianto sportivo esistente in corso mitica nel comune di Oppido Mamertina, lavori di completamento del campo di calcio a Natile di Careri ed infine i lavori del campo di calcio a Palizzi. I tempi sono rapidissimi perché abbiamo ricevuto un finanziamento del credito sportivo di 4 milioni 360 mila euro con ben 8 interventi che vedranno premiare tutto il territorio metropolitano e interventi che vanno a migliorare sensibilmente la qualità dell'attività sportiva dei nostri ragazzi, di tutto il mondo dell'associazionismo, del mondo delle comunità, delle federazioni che tanto nel tempo ovviamente hanno richiesto e quindi intervenire con ingenti risorse in questo momento non soltanto darà respiro alle amministrazioni comunali ma darà delle risposte concrete a chi per tanto tempo ha dovuto anche lasciare i propri comuni di appartenenza e disputare le proprie gare ecco anche fuori dal proprio comprensorio e quindi non possiamo che ovviamente essere soddisfatti. Un ringraziamento permettetemelo particolare va fatto alla nostra struttura amministrativa con in capo l'architetto Mezzatessa, tutti i tecnici che hanno lavorato ma anche un ringraziamento permettetemelo di farlo al credito sportivo che ha sempre dialogato con la città metropolitana in maniera coerente, costante nei tempi diciamo stabiliti dalla norma. Questa è la settimana mondiale del glaucoma, ci occupiamo di tutela della salute, qualità della vita essenzialmente, adesso con questo servizio noi ce ne andiamo a trovare i nostri amici dell'Unione Ciechi di Crotone, vediamo. Anche quest'anno l'Unione Italiana Ciechi, sezione provinciale di Crotone ha organizzato una serie di iniziative in concomitanza con la settimana mondiale del glaucoma, alcuni incontri e poi delle visite oculistiche. Glaucoma, quanto è importante la prevenzione? È fondamentale perché il glaucoma è una malattia che causa danni irreversibili alla vista per cui è importante intervenire per tempo non appena si manifestano i primi segni. La prevenzione si fa facendo degli esami periodici, quali il campo visivo e la tonometria, dopodiché se ci sono alterazioni si prendono provvedimenti. Quanto è importante questo genere di attività che ogni anno promuove l'Unione Italiana Ciechi? È molto importante perché diciamo che non è che si faccia solo su Crotone, si fa su tutto il territorio nazionale e quindi si sensibilizza la coscienza dei cittadini di modo che possono attuare delle pratiche di prevenzione. E voi ci date una mano perché i media devono divulgare queste notizie in modo che la gente poi si informi, si incuriosisca e agisca di conseguenza. Per il glaucoma c'è un'età? No, diciamo che non esiste un'età, ci può essere una familiarità, esiste addirittura il glaucoma congenito per cui ci sono bambini che nascono già con determinate caratteristiche degli occhi per cui la pressione oculare è elevata e purtroppo in molti casi questi bambini con glaucoma congenito non hanno un buon esito visivo. Per cui è importantissimo che si faccia prevenzione anche a livello familiare perché se ci sono delle familiarità già conosciute allora non bisogna trascurare. La politica dello struzzo non funziona mai. Occupiamoci anche di autismo e di inclusione sociale, ce ne andiamo a Castro Villari. Prendendo spunto dal libro Fai come me sarai felice di Luigi Lupo e Amalia Oleastro, presso il liceo classico Garibaldi di Castro Villari è stato organizzato un incontro orientato ai temi della disabilità e dell'inclusione e la scuola diventa una palestra di relazioni e testimonianze reali. Ci piaceva l'idea di far riflettere i ragazzi insieme a loro, di far riflettere gli adulti su quel che possiamo fare noi nel nostro quotidiano per accogliere gli altri. Abbiamo la fortuna di avere anche tanti ragazzi diversamente abili nelle nostre sedi e molti dei ragazzi presenti vivono quindi l'esperienza dell'accoglienza concretamente perché ne abbiamo circa 30 di ragazzi con difficoltà. Quindi è veramente una bella palestra quotidiana per tutti noi. Dal 2007 è istituita una giornata dedicata all'autismo che in Italia colpisce un bambino su 77 e il 2 aprile la ricorrenza richiama l'attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico. La società è pronta per abbattere queste barriere? La finalità di questa giornata, magari ci fossero tante di queste giornate, è proprio questa, quella di cercare di far capire soprattutto ai ragazzi che la diversità può essere una ricchezza, che la diversità non è un limite, anzi talvolta dalla diversità si trovano stimoli per realizzare grandi sogni. Il libro Fai come me, sarei felice è una raccolta di riflessioni, la relazione genitore-figlio con disabilità, il difficile cammino dell'inclusione scolastica e la dimensione universale dell'amore. Perché la scelta di questo titolo? È stato intitolato così proprio perché è un inno anche agli altri genitori a uscire allo scoperto e far sì che interagendo tutti insieme, soprattutto anche con la scuola che è il primo baluardo non solo da un punto di vista didattico ma anche da un punto di vista educativo, possiamo inserire, includere questi ragazzi nella società. Stiamo organizzando il nuovo premio Crotone Ok per il personaggio dell'anno, il personaggio ok, ma intanto ovviamente ci occupiamo della rivista, guardiamo. Parliamo di giornalismo, lo facciamo nella sede di Crotone Ok, una storica testata proprio edita a Crotone da 21 anni. Andiamo a incontrare il direttore editoriale, anche editore, che è Antonio Gaetano. Intanto direttore, come nasce un anno di Crotone Ok? Vogliamo aggiungere come nasce già Crotone Ok, visto che sono passati più di 20 anni. Crotone Ok quando nasce voleva nascere principalmente per lanciare una visione e raccontare la positività del territorio. Io ho sempre avuto una visione nella mia testa, ma di certo è quello che dovrebbe già essere. Per incominciare un anno alla grande bisogna incominciare a pensare già alle cose positive del vecchio anno e da qui nasce un anno di Crotone Ok. nasce già da 12 anni, mi ricordo ancora il primo giorno che andai in redazione e chiesi ai miei collaboratori di raccontare 12 mesi, ma di estrapolare da tutti i nostri numeri le positività di questo territorio. Da qui nasce il primo inserto all'interno del nostro giornale. Come nasce il Personaggio Ok? Il Personaggio Ok naturalmente non è il più bravo, non è il migliore, ma gli ok che sono stati dati all'interno della rivista, mese per mese ce ne stanno 4 o 5, quest'anno ne abbiamo 51, da qui viene scelto chi nell'arco dell'anno in tutto il 2022 è riuscito a raccontare meglio il nostro territorio e chi ha portato più in alto possibile il nome della nostra città, del nostro territorio e della nostra Crotone. Chi sono i vincitori dell'edizione 2022? Allora partiamo dal Personaggio Ok che forse è il premio di spicco di un anno di Crotone Ok. Quest'anno è stato dato a Gregorio Mungari Cutruzzola, è stato dato principalmente, forse è un premio anche diverso dagli altri anni perché è stato dato un premio a un personaggio, a un sognatore che insieme alla sua società che è Alfa 21 ha voluto portare negli anni la crociera a Crotone. Chi sono gli altri premiati? Allora l'altro premio è il messaggio ok, da qui il messaggio è quando la città chiama i crotonesi rispondono e da qui il premio è stato dato ad alcune associazioni e imprenditori che hanno dopo due anni di pandemia regalato un gran bel Natale e sono Antonella Stasi del Gruppo Amarrelli, Antonio Casillo, Presidente Commercio Crotone, Luca Mancuso, Presidente di Fenimpresa e Gianni Vrenna, Presidente dell'FC Crotone Calcio. Poi abbiamo un ok in rosso-blu che è il premio dedicato all'indimenticabile Peppino Messinetti, quest'anno è stato dato a un giovanissimo, un quattordicenne Gianluca Pittelli che nella sua categoria è riuscito a diventare campione italiano Rana. Infine abbiamo la menzione ok che quest'anno è stata data all'attore Carlo Gallo. E di tutto questo ovviamente poi ci occuperemo con i vincitori e quindi con i protagonisti con buona probabilità il prossimo 30 di marzo in Auditorium Esperia. Ma adesso vediamo le previsioni del tempo. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì. Partiamo prima dal movimento delle alte e basse pressioni a livello europeo. Possiamo notare l'Italia interessata dall'alta pressione che poi si estende verso est e verso tutta l'Europa orientale. Più ad ovest invece tra il Portogallo, la Spagna e le isole britanniche una circolazione di bassa pressione, quindi una perturbazione atlantica. Gli sviluppi sull'Italia con l'alta pressione che ancora atterrà i suoi massimi sulle nostre regioni, una giornata di cieli sereni o poco volosi, al più transiteranno delle innocue velature o stratificazioni, sono quelle nubi alte oltre 7 km di altezza che non apportano precipitazioni. In sintesi quindi la mappa dell'Italia con tanto sole a interessare tutte le nostre regioni, un po' freddo di notte al centro-nord, massime diffusamente tra i 13 e i 18 gradi, valori quindi di giorno primaverili. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo. Grazie per averci seguito, le 14 e 26, quasi 27 minuti, vi lascio alla programmazione di Esperia TV, noi ci vediamo più tardi, intorno, anzi no, alle 5 e mezza. A dopo.